Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, a San Vito, precisamente in Viale Ionio, Piazzale Bezzi. Proprio in quest'area dovrebbe sorgere prossimamente una rotatoria. I cittadini l'hanno chiesta per ragioni di sicurezza e finalmente dovrebbe la rotatoria vedere la luce. Però ovviamente la singola rotatoria non basta, va ovviamente riqualificata tutta l'area e perciò affrontiamo questo desiderio degli abitanti. Lo affrontiamo con Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Benvenga la rotatoria, però tutto il resto non è noia ma è degrado. Assolutamente sì. Effettivamente questo incrocio di San Vito qui nei pressi della Mariscuola è un incrocio storicamente pericoloso. Da quando abbiamo attenzionato proprio in occasione della creazione del parcheggio Grandi Eventi in Viale Ionio per i giuramenti, da quando abbiamo attenzionato questa zona abbiamo potuto anche verificare e inoltrare la richiesta del progetto di una rotatoria per far diventare questo incrocio più fruibile e più sicuro. Pare che a breve questi lavori inizieranno e questo ci fa molto contenti e ringraziamo coloro che hanno ascoltato la nostra richiesta. Però altresì ci interessa il viale d'ingresso del nostro periferico quartiere che però è frequentato da tantissimi turisti, sia business che vacanzieri. E presenta degli stati, degli strati e stati, passatemi il bisticcio di parole, di dissesto, degli avvallamenti. E' dissesto che è una parola che ti ricordo. Non quello finanziario, quello proprio stradale, ecco, del manto stradale. Assolutamente sì, dissesto va bene così ci ricolleghiamo anche agli altri. Esattamente qui c'è un problema sulla Viale Ionio che è una strada assolutamente dissestata e un problema per le moto, per le auto ma anche proprio di bigliettino da visita della periferia. Oltre che ovviamente l'avvallamento che si forma durante le piogge, con le piogge, alla doppia curva che non permette ai residenti e anche agli stranieri, diciamo ai turisti, di poter accedere al quartiere. Quindi ci auguriamo che... Rifare l'intera Viale Ionio. Oltre alla rotatoria che abbiamo richiesto e che sappiamo sarà sviluppata prossimamente, ci auguriamo che i nostri lavori pubblici affidino anche il manto stradale a questa novità 2016. E quindi una sfida all'assessore Lonocce. Usciremo prima dal dissesto finanziario o dal dissesto stradale di Viale Ionio? all'assessore Lucio Lonocce, assessore Lonocce nonché vice sindaco, l'ardua risposta.